Ok ragazzi, se doveste decidere di fare un video sulla mafia sfidando i luoghi comuni, il Fatto Quotidiano e il report di Rai 3, che cosa potrà mai andare storto? Iniziamo col dire che tutti nel mio comune combattono la mafia ed è per questo che alla manifestazione di domenica abbiamo partecipato in tanti. All'incirca eravamo 600. Sì, non moltissimi, ma eravamo quasi tutti amministratori, locali, politici ed attivisti. Quindi un bel numero di persone, quello che mancava in quantità, l'abbiamo recuperato in qualità. Dai! Il problema vero e proprio inizia laddove si deve definire però la parola mafia. Per esempio, gli ecologisti ritengono che tutti coloro che ottengono un permesso per costruire siano mafiosi o affiliati alla mafia. E questo, naturalmente, è un concetto sbagliato. Alcune giornaliste che collaborano con il Fatto Quotidiano dicono che gli appalti del comune sono gestiti dalla mafia, anche se questo non è vero. E anzi, l'unica volta che un rappresentante di un'associazione antimafia ha sostenuto questa tesi è stato condannato dal tribunale per diffamazione nei confronti dello sventurato impiegato che era stato additato come tale. E infine ho sentito un rappresentante di un'associazione antimafia famosissima e molto attiva, tanto a livello locale quanto nazionale, dire che prende le mosse per la sua attività da un servizio di report, di Rai 3. Quindi, fermo restando che queste associazioni nella zona e anche a livello nazionale fanno delle cose belle, buone, certamente profumate, quest'ultimo aspetto, cioè il fatto che basino parte della loro attività sul nostro territorio, su un servizio di report, beh, mi lascia alquanto perplesso. Intendo dire, report è una trasmissione televisiva, non è un tribunale. E nel caso specifico, tanto report quanto il fatto quotidiano vanno letteralmente in controtendenza rispetto alle decisioni prese da un giudice per le indagini preliminari. In pratica, un giudice per le indagini preliminari dice che il lavoro della procura è decisamente migliorabile, non c'è traccia di mafia nella nostra città, mentre invece report sostiene il contrario. Ora, fermo restando che ci sono dei servizi di report fatti bene, ai quali mi riporto tranquillamente sportivamente, non è un segreto, per esempio, che non ho mai parlato del caso di Sgarbi, perché report ha già detto e fatto tutto quello che si poteva dire fare. In altri casi, sembra che i giornalisti mettano insieme gli elementi un pochino come vogliono loro, lavorando di opportunità e con un pizzico di fantasia. Ma procediamo con ordine e diamoci dentro. Il caso di cui parliamo è chiaramente l'inchiesta IDRA portata avanti dalla Direzione Investigativa Antimafia di Milano. Un'indagine che coinvolge più di 150 persone in tutta Italia, ed il cui Pubblico Ministero è convinto che diverse organizzazioni criminali, come la Camorra, qualche banda romana, l'Andrangheta e Cosa Nostra, si siano unite per formare una supermafia. Questa supermafia, sempre secondo l'accusa, sarebbe organizzata e gestita dal signor Errante Parrino, un'ambiatense di 77 anni, che a cavallo fra gli anni 80 e 90 è stato effettivamente condannato a 10 anni di carcere per un reato relativamente grave. E sempre, secondo il Pubblico Ministero, il signor Errante Parrino coordinerebbe, dominerebbe e comanderebbe questa super mega organizzazione da un bar chiamato Las Vegas, che si trova proprio nella mia città. In pratica, secondo il Pubblico Ministero, Abbiate Grasso sarebbe la Washington DC di Cosa Nostra. Anzi, di più, sarebbe la Washington DC di una specie di spectre che coordina tutte le organizzazioni criminali d'Italia, o quasi... Gotham City! Regimi la pizza! Ora, se questa ricostruzione, così, in via approssimativa, ad occhio, vi sembra un pochino strana, sappiate che siete in buona compagnia. Sembra, infatti, strana anche a me, ma soprattutto al giudice per le indagini preliminari che ha avvaliato 130 richieste di misure cautelari relative ai 150 pass indagati e che, soprattutto, ha respinto quasi 117 o 123 richieste di misure cautelari. In pratica, il Pubblico Ministero voleva mettere agli arresti domiciliari o in custodia cautelare in carcere 130 persone, ma il GIP ha detto che per almeno 117 o 111 non vede i requisiti minimi per concedere una misura restrittiva della libertà. In pratica, su 150 pass indagati, soltanto 11, 12, forse 17, sono finiti o agli arresti domiciliari o in carcere. Non so se ve ne rendete conto, ma praticamente il Pubblico Ministero è riuscito ad ottenere un arresto su 10. E questa è una cosa estremamente inquietante, perché, ripeto, il Pubblico Ministero vuole arrestare 10 persone per il giudice per le indagini preliminari, 9 su 10 non hanno fatto nulla, non ci sono elementi per procedere contro di loro o perlomeno non ci sono elementi sufficienti per metterli in carcere. Questo dettaglio, spesso e volentieri, dalla televisione e dai giornali, come il Fatto Quotidiano, viene taciuto o largamente sottovalutato. E naturalmente, qualora non si fosse capito, il signore Errante Parrino rientra nelle 117 persone per le quali il giudice per le indagini preliminari ha negato la misura cautelare. Fra qualche giorno si terrà l'udienza presso il Tribunale del Riesame e si vedrà se anche i giudici di questo Tribunale la pensano come il giudice per le indagini preliminari oppure no. Il dato di fatto è che a oggi il signore Errante Parrino è un uomo libero, indagato naturalmente, come capita a chiunque sia oggetto di un procedimento penale per un motivo o per l'altro, ma libero. Su Report hanno comunque dato particolare risalto alla sua figura e soprattutto sulla minaccia che egli ha proferito quando il giornalista è andato al bar per intervistarlo. Milioni di persone hanno visto il signore Errante Parrino di 77 anni dire al giornalista di Report che doveva andarsene perché se no gli avrebbe staccato la testa. E naturalmente cose di questo tipo, anche se hai 77 anni, non le dovresti dire, ok? Non sto assolutamente giustificando il signore Errante Parrino. Tuttavia sarebbe anche il caso di rilevare che quella non è stata l'unica occasione in cui il giornalista ha incontrato il signor Parrino. Report si è dimenticato di dirvi che il giornalista di Report, forse anche altri giornalisti, hanno braccato il signor Parrino per circa una settimana, prima per l'appunto di arrivare allo showdown finale con quello scambio di battute. Ora cercate di mettervi nei panni di un signore di 77 anni che non ha esattamente un Nobel per la pace, ok? Si sveglia la mattina e iniziano a scampanellarli sotto casa perché vogliono un'intervista in relazione a un'indagine della quale ha appena appreso di essere soggetto. È chiaro che magari non sei esattamente l'avvocato Catania, non ti diverti a stare al centro dell'attenzione, non hai molto senso dell'umorismo, ma in compenso hai dei nipotini a cui badare e rispondi cortesemente al giornalista che non sei interessato a rilasciare dichiarazioni. Provi a fare la tua vita, ma ovunque vai, becchi o il giornalista di Report o altri, ok? Vai a scuola a prendere i nipoti? Giornalisti sotto la scuola. Torni a casa? Giornalisti sul pianerottolo. Provi a chiedere lo zucchero alla vicina? Trovi i giornalisti che la stanno intervistando. È chiaro che al termine di una settimana così, quando per l'ennesima volta ti si para davanti un giornalista, beh, gli rispondi male. Beninteso, io non gli avrei risposto male, avrei chiamato i carabinieri e avrei fatto una denuncia per stalking. Però intendo dire, io sono io, e il signore Errante Parrino è il signore Errante Parrino, ok? Per cui c'è già questo piccolo dettaglio. Non è che le persone si divertono a minacciare i giornalisti. Semplicemente eravamo di fronte a una persona di una certa età che era esasperata e ha risposto in maniera impropria. Ok? Questo è il primo dato di fatto. Poi, ripeto, risposte così non vanno mai date perché effettivamente possono costituire reato. Report e i giornali hanno poi sostenuto che esistesse un rapporto strettissimo fra il signor Parrino e il sindaco di Abbiategrasso, Cesare Nai, e che addirittura il signor Parrino avrebbe minacciato, o perlomeno parlando con il sindaco in relazione a una pratica della figlia, avrebbe minacciato un dipendente comunale. Anche qui sarebbe il caso di fare un pochino di chiarezza sul dialogo fra le due persone. Lo stralcio dell'intercettazione telefonica del quale stiamo parlando è questo pubblicato, tra gli altri giornali, anche dall'Alto Milanese. Il signor Parrino dice Io sono arrivato ai corti di entrare nell'ufficio di Carrozza e scassarlo tutto, te lo giuro. Il sindaco replica Ma non pensare a Carrozza. Il signor Parrino ribatte Senti, io ieri mi sono procurato il numero di telefono per darci un appuntamento e ci stacco la testa. Ti giuro che ci stacco la testa. Il sindaco ridacchia, dopodiché Parrino continua e dice Sto figlio di Bippana, è lui! C'è qualcuno che ci dice di non farlo. Il sindaco Ma non è vero. Parrino Eh sì, il sindaco Guarda, sento Gildo e sento Gianni Dai, vedo come muovermi Che rottura di Bipponi Ora, una conversazione pubblicata in questo modo del tutto avulsa dal contesto non è bella C'è infatti riferimento al taglio della testa che evidentemente è la specialità e la catchphrase del signor Errante Parrino Io dico che cosa potrà mai andare storto Lui dice Io taglio la testa Siamo lì, uguali E poi, naturalmente, ci sono altri riferimenti al sindaco che possono essere fraintesi Ma contestualizziamo il tutto e riportiamolo alla realtà In primo luogo dovete sapere che la figlia del signor Errante Parrino gestisce un bar chiamato Las Vegas Questo bar, come moltissimi altri nella mia zona ha dei tavolini all'aperto e ha quindi una licenza per l'uso di suolo pubblico Questa licenza, che è stata concessa durante un'amministrazione di centro-sinistra e quindi al di sopra di ogni sospetto deve essere rinnovata ogni tot anni Ora, la figlia del signor Errante Parrino prudentemente ha chiesto il rinnovo di questa autorizzazione con ampio anticipo rispetto alla scadenza E in quel periodo lo sportello e l'ufficio specifico che curavano questo tipo di pratiche facevano un lavoro più qualitativo che rapido che poi è un modo elegante per dire che questa pratica è rimasta a macerare davvero per tanto, tanto, tanto tempo Ed essendo consigliere comunale a difesa dell'ufficio devo anche dire che ci sono stati una marea di imprevisti in quel periodo C'era poco personale è arrivato il covid le cavallette i nazisti dell'Illinois insomma, ne sono capitate di tutti i colori e quella pratica purtroppo insieme ad altre molte altre è rimasta più o meno ferma L'amministrazione per un lungo periodo di tempo proprio non ha risposto non ha detto sì non ha detto no non ha neanche detto ma vaffanbippo proprio nulla il silenzio Ora, se una cosa del genere capita all'avvocato Catania o a qualche assistito dell'avvocato Catania il comune si vede recapitare una PEC in cui si invita il medesimo comune a dare corso alla procedura oppure trascorso un certo numero di giorni seguirà una denuncia querela slash esposto alla procura della Repubblica per omissione d'atti d'ufficio dopodiché visto che la città è piccola e ci si incontra tutti vai dall'assessore di riferimento e dal sindaco e gli dici ma com'è possibile che questo ufficio funzioni così poco e così male vedi di sistemare le cose perché non ho voglia di farti una querela ok? l'avvocato Catania le cose le sistema così istituzionalmente il signore Errante Parrino di 77 anni abituato a gestire le cose in modo diverso chiama lo stesso il sindaco lamentandosi del fatto che l'ufficio non funziona così come faranno probabilmente decine spero non centinaia di altri cittadini nello stesso periodo ricordo a difesa del comune che siamo in periodo di covid quindi non è così strano che gli uffici procedano a rilento ok? in questo caso specifico il signore Errante Parrino invece di dire guarda che mi rivolga un avvocato che poi vi fa un bippo così semplifica al massimo e dice io chiedo a carrozza l'appuntamento che l'impiegato e gli taglio la testa ora siccome quella è la sua catchphrase con tutto il rispetto non è che sia stato proprio preso sul serio un pochino come quando parlo io con gli occhiali ecco e questo è il motivo per cui il sindaco non ha ritenuto opportuno fare nulla di che tra l'altro qui siamo di fronte al problema che tecnicamente è il comune a non aver risposto a dei cittadini per un lungo periodo di tempo quindi alla fine della fiera proprio tutti i torti il signore Errante Parrino non li aveva beninteso lo ripeto ancora una volta per non essere frainteso è sbagliato minacciare la gente proferire frasi di questo tipo perché poi in teoria la minaccia è tale quando deve essere presa seriamente e questo chiaramente non è il caso però intendo dire non c'è nulla di particolare dietro c'è semplicemente un cittadino che è imbippato nero perché l'amministrazione non le dà una risposta da chissà quanto tempo questo è il concetto di fondo il sindaco dice no dai vedo quello che posso fare nel senso che provi a vedere quali sono gli altri impiegati che eventualmente possono supplire all'inerzia di quello che non manda avanti la pratica nel senso che la pratica non la tratta perché naturalmente poi ti possono anche rispondere picche gli impiegati e non è che devi per forza ottenere una risposta positiva ma perlomeno devi sbloccare la situazione perché anche un esercizio commerciale ha tutto il diritto di sapere se avrà ancora a disposizione certi spazi oppure no detto fra parentesi se volete sorridere a causa del covid naturalmente le concessioni sono state congelate e prorogate quindi in teoria questo esercizio commerciale non avrebbe dovuto pagare la tassa di occupazione quantomeno fino al dicembre 2023 mi è stato riferito ma non ho avuto modo di verificare che invece questo esercizio ha sempre pagato regolarmente ora se davvero ha versato dei soldi extra saremmo nella paradossale condizione in cui ma neanche tanto il comune dovrebbe restituire delle somme ok quindi la situazione a cui si fa riferimento è questa certamente siamo di fronte a un ipotetico reato di minaccia perché il ti stacco la testa al signor errante parrino è partito ma è altrettanto vero che questo è stato il risultato di uno sfogo causato da un'attività della pubblica amministrazione non esattamente all'altezza insomma diciamocelo tante persone nelle stesse condizioni avrebbero perso la pazienza allo stesso modo poi naturalmente non voglio attaccare gli uffici perché quell'ufficio in particolare all'epoca aveva dei seri problemi e ripeto eravamo sotto covid ma il fatto è che siamo di fronte a un cittadino che non ha ricevuto un servizio nei modi e nei termini che sono normalmente accettabili e si è sfogato in maniera anche un po' impropria la realtà è questa pura e semplice i giornali e non solo loro ci hanno ricamato sopra come ha spiegato il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza che rigettava le richieste del pubblico ministero la mafia è un'altra cosa a questo punto volevo parlarvi anche della chiusura del bar che è stata imposta dal prefetto ma data la tempistica e il minutaggio del video mi tocca rinviare il tutto a domani nel frattempo fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video e di questa vicenda scrivendo qualcosa qui sotto se poi vi piacciono i miei video che oggettivamente qualche volta sono decisamente particolari ricordatevi di attivare la campanella iscrivervi al canale lasciare un mi piace grande e grosso e condividere il video sui vari social come sempre se non farete tutto questo in un futuro alternativo remoto e decisamente eventuale potreste ritrovarvi a dover chiedere un permesso senza che l'impiegato si faccia vivo per anni e anni e anni perché qualcun altro gli ha tagliato la testa io vi ho avvisati poi fate voi come sempre grazie di tutto per tutto e a presto grazie a tutti